Metà della popolazione mondiale è agli arresti domiciliari e intere nazioni stanno vivendo un lungo coprifuoco. Le strade sono deserte, i negozi sono chiusi, i teatri e gli stadi sono deserti. Tutto a causa di un coronavirus che sta attraversando la nostra vita e devastando le nostre abitudini. Tanti lutti hanno caratterizzato anche la vita di molte famiglie, la perdita di persone care. Quindi tutto questo scombussolamento di abitudini, questi dolori, la perdita del lavoro, il crollo delle borse, le città sacre come la Roma, la Mecca, Gerusalemme sono vuote di presenze. E allora questo ci fa ricordare la violenza e i disastri procurati da questa tragedia. Però all'ombra di tutte queste ombre, di questo cordoglio generato dal coronavirus, ci sono anche delle luci che siamo invitati a cogliere, dei segni di vita che nascono all'ombra della morte. E allora vorrei puntualizzare i valori o queste gemme da cogliere attraverso cinque voci che mi sembrano possano sintetizzare la speranza che caratterizza quello che è germogliato all'ombra della morte. La prima voce che inizia con esse si chiama salute. Oggi è diventato il valore al centro della nostra vita. Ci adoperiamo seguendo le direttive che ci sono state trasmesse dai governi per custodire la salute nostra e quella altrui. Lì dove questa venisse meno ci affidiamo ai medici, all'infermiere, a tutti coloro che con diverse competenze possono venire in soccorso delle persone travagliate, provate, che vengono magari intubate, alle quali dobbiamo talvolta dire addio perché la morte la portate con sé. E allora ci affidiamo anche alla scienza, agli studiosi, ai ricercatori, perché attraverso i farmaci possano trovare come debellare questo grande nemico dell'umanità. La seconda voce che inizia con esse è sentimenti. Tutto quello che sta accadendo sta scatenando un turbine di sentimenti. All'inizio era il sentimento dell'incredulità, della perplessità, dello sgomento, perché avevamo notizie dalla Cina, di questa città di 11 milioni di abitanti bloccata, paralizzata. Ma poi quello che era lo sgomento, quello che era il coronavirus, ha bussato alle nostre porte, è entrato nelle nostre case e ha scatenato soprattutto il sentimento della paura. Talvolta la paura di essere noi stessi contagiati o di contagiare i nostri cari, la paura poi della febbre, della tosse, la paura di essere ospedalizzati, la paura di dover sottoporci ai ventilatori, di essere intubati, talvolta la paura di morire. Tanti volti della paura che attraversano la vita dei singoli e delle famiglie. Poi questo sentimento della paura si è andato trasformando in tristezza, soprattutto dinanzi alle notizie dei tanti morti, a queste carovane di bare che accompagnano le persone verso il cimitero o verso i crematori, leggendo le infinite pagine di necrologi delle persone che muoiono. Questo ci rattrista anche l'informazione che muoiono tanti medici o personale sanitario, cercando di aiutare la vita perdendo la propria vita. Sono tutte notizie che ci rattristano per il vuoto, per il silenzio, che questi addi dolorosi, spesso impersonali, provocano nella nostra vita. Poi questa tristezza è diventata solitudine, soprattutto per gli anziani, che sono senza presenze, senza volti, senza mani che stringono le loro mani tremanti, che magari devono salutare i nipoti dalla finestra, o l'esperienza dei disabili che non possono beneficiare della visita delle persone amate. E poi oggi c'è un altro sentimento che è quello della rabbia, della frustrazione, che talvolta diventa aggressività, soprattutto all'interno della vita di coppia o di famiglia, per la tensione accumulata, per il lungo isolamento, per l'impossibilità di liberare le energie attraverso l'esercizio. I sentimenti sono qualcosa che ognuno deve imparare a gestire, a canalizzare, perché non vengano somatizzati o non si trasformino in espressioni negative. La terza voce che inizia con essa è solidarietà. Tutto quello che sta succedendo ha portato a galla anche tante forme di solidarietà. La prima solidarietà talvolta viene dai governi, che devono impartire delle disposizioni per tutelare la salute pubblica, per venire incontro alle famiglie bisognose, per aiutare le imprese. Poi questa solidarietà è rappresentata dalle forze dell'ordine, dalla protezione civile, dai carabinieri, dall'esercito, dagli alpini, da tutti coloro che attraverso la loro presenza cercano di venire incontro ai bisogni della comunità, che cercano di far rispettare le regole, cercano di rispettare le zone rosse e così via. Poi questa solidarietà, oltre che dai medici e dalle infermiere impegnati in prima linea ad assistere persone, sono rappresentate anche dalle persone umili, dalle persone addette alle polizie, dalle ambulanze, dai autotrasportatori che portano i viveri, dagli impiegati nei supermercati, da coloro che portano come volontari aiuto agli anziani, cibo, farmaci. Tutte queste persone che rappresentano, nelle diverse espressioni del volontariato, la comunità vicina, la comunità che è prossima a coloro che soffrono. La quarta voce è la saggezza. Tutto quello che sta succedendo ci purifica, ci costringe a guardarci dentro e a guardare in alto. Cioè la nostra scala di valori è trasformata. Quelli che prima erano valori prioritari, il guadagno, la produttività, l'economia, stanno cedendo il passo ad altri valori, in particolare la vita, la tutela della salute, forme di espressione, di vicinanza e di solidarietà agli altri, che adesso sono valori che plasmano di più la nostra vita. E ognuno di noi, dinanzi a quello che succede, è invitato a riflettere, a guardarsi dentro, a purificare la propria vita, a riflettere su quelli interrogativi che prima avevamo lasciato al margine, sul senso della vita, sulla nostra missione, sul perché della sofferenza, sulla vita, sulla morte. E tutto questo bagno ci costringe a diventare più profondi, più introspettivi, più saggi. È un beneficio all'ombra della sofferenza. E la quinta voce, che inizia con essa, è spiritualità. Tutto quello che sta accadendo ci costringe a guardarci dentro e a guardare in alto. Le persone stanno facendo tutto un cammino dove la meditazione, l'introspezione, diventano modi per sentire più l'essenza di noi stessi, il vero significato della vita, togliendoci le nostre maschere e purificando noi stessi e i nostri rapporti con gli altri. Due voci importanti della spiritualità riguardano la pazienza, che ognuno di noi è chiamato a tollerare, a coltivare nel tempo dell'avversità, e la speranza, la speranza che ci aiuta dalle speranze più umili, dei piaceri della vita quotidiana, alle speranze di poter avere la forza di affrontare questo lungo tunnel, la speranza che le persone che hanno sofferto perdite possano cicatrizzare gradualmente le loro ferite, la speranza che è unita alla preghiera, la preghiera personale, la preghiera che ci unisce agli altri, le diverse forme di preghiera che rappresentano il filo rosso che ci unisce a Dio, alla natura, agli altri e più profondamente a noi stessi. In una parola, all'ombra di tutti i disastri procurati dal coronavirus, ci sono delle gemme di speranza, delle luci che noi siamo chiamati a coltivare, la salute, la solidarietà, i sentimenti, la saggezza e la spiritualità. Quanta luce ognuno di noi troverà alla fine di questo lungo tunnel dipenderà da come, da quante scorte di luce, di saggezza e di spiritualità avremmo coltivato dentro di noi per affrontare il mistero del futuro.